torniamo a parlare di dividendi tanti dividendi di aziende da dividendo ce ne sono una valanga e ognuna ha le proprie peculiarità punti di forza e punti di debolezza ma se ne dovessi scegliere solo tre quali sarebbero in questo 2022 quelle sulle quali potrei metterci un gettone bene ora ti dico la mia le mie tre scelte ma subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il boss investitore e risparmiatore della porta accanto oggi torniamo a parlare di dividendi ma che strano questi amati e odiati e vado a prendere tre aziende per le quali secondo me vale la pena farci un pensierino in questo 2022 e anche perché no per il lungo termine aziende che io potrei valutare ma non è detto che aggiunga anche se dicono sicuramente alla mia strategia e al mio tipo di portafoglio come sempre non le vado ad approfondire ma le vado solo a presentare a parlare del loro business se vuoi un video approfondito su una o tutte le aziende citate per favore chiedimelo pure nei commenti qui sotto che come per sempre lo faccio con molto piacere ovviamente il solito disclaimer non sono consigli finanziari ma semplici mie considerazioni se vuoi un consiglio finanziario su come investire non è questo il canale qui ti devi affidare ma ti devi affidare un esperto del settore ti ricordo che puoi sostenermi comunque su Patreon e su YouTube per contenuti dedicati a partire dal costo di un caffè al mese inoltre novità in arrivo ma se vuoi comunque ne parliamo giovedì in un bel video dedicato o se sei curioso comunque trovi già l'anteprima nel posto per gli abbonati per cui YouTube e Patreon beh trovati tutto in descrizione del video ma ora basta andiamo a parlare delle tre aziende da dividendo per il 2022 la prima è Lowe's, Lowe's Company il gigante delle bricolage potrebbe non sembrare un titolo molto eccitante in realtà ed è vero a meno che non ti piaccia la crescita dei dividendi la società ha aumentato il suo dividendo ogni anno da quando è stata quotata in borsa nel 1961 e ha aumentato quindi il pagamento di un enorme più 471 per cento solo nell'ultimo decennio la prossima generazione del Fayette do yourself spenderà molti soldi da Lowe's azienda che ha qualche problemino di debito ma che secondo me ha un po' di punti di forza primo fra tutti pur avendo un dividendo basso ma è che è sempre in crescita come dicevamo prima e per cui fa sempre ben sperare che questa pratica continui nel tempo che da noi è molto apprezzata meno noi che andiamo a investire in dividendi dividendo sostenuto da un payout ratio del 26 per cento e per cui di facile appunto sostenibilità quasi 128 miliardi di dollari di capitalizzazione e circa 300 mila dipendenti Lowe's Company insieme alle sue sussidiari cosa fa opera come rivenditori di articoli per la casa negli Stati Uniti e anche a livello internazionale l'azienda offre delle linee di prodotti per la costruzione manutenzione riparazione ristrutturazione e decorazione ma va a fornire anche altri prodotti per la casa come ad esempio elettrodomestici vita stagionale all'aperto prato e giardino legname cucine bagni strumenti vernici impianti idraulici grezzi materiali da costruzione decorazione illuminazione ed elettricità insomma una caterva offre inoltre servizi di installazione tramite appaltatori indipendenti in varie categorie di prodotti offre anche piani di protezione estesi e servizi di riparazione è in garanzia e fuori garanzia l'azienda vende merce di marca nazionale e prodotti a marchio privato a proprietari di casa affittuali a clienti professionali al 28 gennaio 2022 gestisce 1971 negozi di bricolage e ferramenta l'azienda vende i suoi prodotti anche attraverso i canali online per cui siti web che comprendono l'hoes.com e l'hoes4pros.com e tramite anche delle applicazioni mobili l'azienda è stata fondata nel 1921 a sede a Mooresville nella Carolina del nord la seconda azienda che secondo me non può mancare quest'anno è Walgreens Boots Alliance che è uno dei più grandi operatori di farmacia del taglio del mondo e che sta subendo una massiccia inversione di tendenza le sue azioni stanno già riducendo i costi aumentando le vendite digitali e cosa forse più importante aggiungendo anche delle cliniche vere e proprie sanitarie è un servizio completo in centinaia di punti vendita lo scopo è diventare un'azienda sanitaria più integrata e quello sta contribuendo a rendere questa azienda ancora più redditizia alimentando il suo già generoso dividendo a livelli ancora più elevati con un rendimento da dividendi che è ben al di sopra del 4,5% e sei decenni di crescita annuale dei pagamenti gli investitori che appunto apprezzano i dividendi secondo me apprezzeranno anche molto le azioni di Walgreens Boots Alliance opera come azienda di vendita al dettaglio di prodotti di bellezza e salute guidata per le farmacie opera attraverso due segmenti stati uniti ed internazionale il segmento che si trova negli Stati Uniti vende prevalentemente farmaci da prescrizione è un assortimento di prodotti al dettaglio inclusi prodotti per la salute benessere bellezza pura personale materiale di consumo e merce in generale attraverso appunto le proprie farmacie al dettaglio va a fornire inoltre servizi di farmacie centrali specializzati e servizi di posta al 31 agosto 2021 questo segmento gestiva 8.965 negozi al dettaglio con i marchi Walgreens e Duano Reed negli Stati Uniti d'America in più esistevano anche cinque farmacie specializzate per quanto riguarda invece il segmento internazionale quello vende farmaci da prescrizione saluti benessere bellezza cure personale e altri prodotti di consumo attraverso i suoi negozi di salute e bellezza guidati anche da farmacie e studi ottici nonché tramite il sito boots.com è un'applicazione mobile integrata si occupa anche di vendita all'ingrosso e distribuzione di prodotti farmaceutici in Germania al 31 agosto 2021 questo segmento gestiva 4031 negozi al dettaglio sotto il nome di Boots Benavides e Omada questo succede nel Regno Unito, Thailandia, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Paesi Bassi, Messico e Cile questi sono 548 studi ottici di cui 160 in franchising Walgreens Boots Alliance è stata fondata nel 1901 a sede a Deerfield Illinois il dividendo è sostenibilissimo a mio parere con un payout ratio del 26% circa 259 mila dipendenti e una market cap di 39 miliardi di dollari. Ultima ma non per importanza e penso che un po' tutti se l'aspettassero Johnson & Johnson che possiede un portafoglio di marchi eccellenti che realizzano prodotti in cui le persone hanno sempre particolarmente bisogno anche articoli sanitari. Oltre ai marchi conosciuti troviamo anche Neutrogena, Zaytech, Bernardi, Johnson questa ha operazioni massicce e costantemente redditisse nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici la cui combinazione ha permesso sempre all'azienda di aumentare i propri dividendi per oltre 60 anni consecutivi. Questa enorme diversità tra marchi per la salute dei consumatori, prodotti farmaceutici e anche dispositivi medici a mio parere non è uguali e ha dimostrato di essere un enorme motore di profitto. Tuttavia il management ritiene che questa struttura di conglomerato abbia limitato le capacità dell'azienda di concentrare le proprie risorse e alla fine del 2021 ha annunciato piani per dividere il business dei prodotti al consumo in un'azienda completamente separata. Per quel che si dice la divisione dovrebbe avvenire nel 2023 con gli azionisti esistenti che riceveranno azioni di entrambe le società. Johnson & Johnson insieme alle proprie filiali ricerca sviluppa e produce e vende vari prodotti nel campo sanitario in tutto il mondo a diversi segmenti. Il segmento consumer health dell'azienda offre appunto prodotti per la cura del bambino, prodotti per l'igiene orale, prodotti per la salute, bellezza della pelle, prodotti di base per esempio come il paracetamolo. Anche un altro segmento che si chiama Medtech e questo cosa fa? Fornisce prodotti di elettrofisiologia per il trattamento ad esempio delle malattie cardiovascolari, prodotti anche per la cura neurovascolare, per il trattamento di ictus, per i prodotti ortopedici, per il sostegno dell'HIV, traumi particolari alle giunture o la colonna vertebrale, traumi sportivi e anche soluzioni avanzate di chirurgia generale che si concentrano molto sull'estetica. Questo segmento inoltre serve tantissimi grossisti, ospedali e rivenditori. L'azienda è stata fondata nel 1886 a sede a New Brunswick nel New Jersey, ha una market cap di 476 miliardi di dollari, un dividendo del 2,5% e lo copre con un 56% dei propri earnings, azienda storica per chi vuole investire in dividendi. Bene, qui ci arrivate anche alla fine di questo video, dammi le tue impressioni su queste tre aziende e dammi anche una tua idea se queste possono essere valide o meno, se possono essere delle soluzioni particolarmente interessanti per un investitore da dividendo, puoi essere tu o come possono essere io e ovviamente se nella tua mente ce ne sono altre di migliori. Spero ovviamente di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per far crescere tutta la community. Come sempre cerchiamo di aiutarci a vicenda, scambiandoci commenti, educati, opinioni educati e aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Bene anche per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, ciao! Ciao!